... ...necessità a raggiungere l'avamposto militare di South Boston per richiedere aiuto. Le coordinate sono disponibili sul vostro manuale d'emergenza. L'avamposto è stato progettato come rifugio in caso di invasione nemica. Attualmente è rifornito di cibo, acqua e munizioni. Questo rifugio è riservato al personale militare. I cittadini, inclusi i familiari non militari, saranno respinti per motivi di sicurezza nazionale. Questo messaggio sarà ripetuto. Questo è un messaggio d'emergenza per tutti i soldati dell'esercito del Commonwealth. Sono attivi i protocolli d'emergenza 1-7-ECO-CHARLY-9. In caso di necessità, raggiungere l'avamposto militare di South Boston per richiedere aiuto. Le coordinate sono disponibili sul vostro manuale d'emergenza. L'avamposto è stato progettato come rifugio in caso di invasione nemica. Attualmente è rifornito di cibo, acqua e munizioni. Questo rifugio è riservato al personale militare. I cittadini, inclusi i familiari non militari, saranno respinti per motivi di sicurezza nazionale. Questo messaggio sarà ripetuto. Cosa? Questo è un messaggio d'emergenza per tutti i soldati dell'esercito del Commonwealth. Sono attivi i protocolli d'emergenza 1-7-ECO-CHARLY-9. In caso di necessità, raggiungere l'avamposto militare di South Boston per richiedere aiuto. Le coordinate sono disponibili sul vostro manuale d'emergenza. L'avamposto è stato progettato come rifugio in caso di invasione nemica. Attualmente è rifornito di cibo, acqua e munizioni. Questo rifugio è riservato al personale militare. Cosa? I cittadini, inclusi i familiari non militari, saranno respinti per motivi di sicurezza nazionale. Ehi! Questo messaggio sarà ripetuto. Questo è un messaggio d'emergenza per tutti i soldati dell'esercito del Commonwealth. Sono attivi i protocolli d'emergenza 1-7-ECO-CHARLY-9. In caso di necessità, raggiungere l'avamposto militare di South Boston per richiedere aiuto. Le coordinate sono disponibili sul vostro manuale d'emergenza. L'avamposto è stato progettato come rifugio in caso di invasione nemica. Attualmente è rifornito di cibo, acqua e munizioni. Questo rifugio è riservato al personale militare. I cittadini, inclusi i familiari non militari, saranno respinti per motivi di sicurezza nazionale. Questo messaggio sarà ripetuto. Questo è un messaggio d'emergenza per tutti i soldati dell'esercito del Commonwealth. Sono attivi i protocolli d'emergenza 1-7-ECO-CHARLY-9. In caso di necessità, raggiungere l'avamposto militare di South Boston per richiedere aiuto. Le coordinate sono disponibili sul vostro manuale d'emergenza. L'avamposto è stato progettato come rifugio in caso di invasione nemica. Attualmente è rifornito di cibo, acqua e munizioni. Questo rifugio è riservato al personale militare. I cittadini, inclusi i familiari non militari, saranno respinti per motivi di sicurezza nazionale. Questo messaggio sarà ripetuto. Questo è un messaggio d'emergenza per tutti i soldati dell'esercito del Commonwealth. Sono attivi i protocolli d'emergenza 1-7-ECO-CHARLY-9. In caso di necessità, raggiungere l'avamposto militare di South Boston per richiedere aiuto. Le coordinate sono disponibili sul vostro manuale d'emergenza. L'avamposto è stato progettato come rifugio in caso di invasione nemica. Attualmente è rifornito di cibo, acqua e munizioni. Questo rifugio è riservato al personale militare. I cittadini, inclusi i familiari non militari, saranno respinti per motivi di sicurezza nazionale. Questo messaggio sarà ripetuto. Questo è un messaggio d'emergenza per tutti i soldati dell'esercito del Commonwealth. Sono attivi i protocolli d'emergenza 1-7-ECO-CHARLY-9. Grazie per la visione!